Terza edizione del Terrazza Abruzzo Fest, qual è il programma e quali le novità? Le novità perché quest'anno saranno tre giornate molto molto particolari, 18, 19 e 20 luglio a Guardia Grele mi preme sottolinearlo e il 18 di luglio ci sarà un convegno molto interessante sulla fibromialgia con ospiti di livello con l'inaugurazione della panchina viola a Guardia Grele 19 di luglio ci sarà un convegno importantissimo con Compturismo Nazionale, con Commercio Chieti sul turismo delle radici tanti relatori nazionali, chef Davide Nanni che verrà comunque come relatore, show cooking, tante situazioni belle 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 per cui vi invito a Guardia Grele ma poi diciamo che il clou è quello che è il passaggio degli altri anni è il 20 di luglio con la notte azzura dello sport con tutte le discipline sportive, grossi personaggi ne elenco solo qualcuno, Marino Bartoletti, Stefano Tacconi, Michele Paramatti, Fabrizia Dottavio, Deborah Sbei ci saranno dei talk dedicati allo sport, tanto spettacolo, tanta musica e quindi vi invito tutti a Guardia Grele il 18, 19 e 20 luglio sulla terrazza d'Abruzzo. Il convegno focalizza un tema che è al centro dell'Italia quest'anno perché il 2024 è l'anno delle radici italiane nel mondo e svolgere questo tema, parlare di turisti delle radici quindi di ritorno ma anche di commercio collegato al turismo delle radici ma anche di lavoro collegato al turismo delle radici ecco farlo in un contesto come Guardia Grele che è stato uno dei luoghi da cui c'è stata la maggiore emigrazione e che mantiene però i più forti collegamenti con i suoi emigrati che ritornano beh devo dire che è fantastico quindi il tema è centrale e il luogo in cui lo trattiamo è centrale e perfettamente adatto. Quanto è importante approfondire questo tipo di argomento? E' importantissimo per l'economia io credo che sia una delle principali opportunità che l'Italia ha da sfruttare per i prossimi anni. Riappropriarsi, rafforzare il collegamento con gli oltre 80 milioni di italo discendenti che si trovano nel mondo e anche con quegli oltre 200 milioni di soggetti che pur non avendo una goccia di sangue italiano nel mondo si sentono profondamente italiani è un'opportunità incredibile per il nostro turismo ma anche per la nostra economia perché si tratta di in qualche modo cellule attivate dell'Italia in giro per il mondo che diventano collegamenti per l'esportazione dei nostri servizi, dei nostri prodotti, della nostra cultura quindi credo che sia uno dei temi più rilevanti che l'Italia può affrontare in questi anni.